E' un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri sera ad Ateleta lungo la strada statale 652 a perdere la vita una ragazza di 26 anni di Napoli, in fuga l'automobilista che l'ha investita. L'incidente ha coinvolto un'auto e una moto scontratesi nei pressi di un distributore di carro burante. La ragazza era nel sedile posteriore della moto il cui conducente è rimasto ferito ma non in modo grave. I due centauri erano diretti verso Ateleta, il conducente dell'auto dopo lo scontro ha abbandonato la vettura e si è dato alla fuga. Sul posto il 118 e i carabinieri che hanno identificato l'automobilista e stanno cercando di rintracciarlo. Si tratta di un uomo del posto che dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso.